ben trovati oggi continueremo tenteremo sempre in punta di piedi di trovare nuove nuovi spunti per riflettere volendo anche proprio a un livello un po più profondo cercare di meditare rilassandoci stando sul nostro respiro rimanendo nel presente accogliendo i pensieri se arrivano le emozioni se arrivano belle brutte che siano ma predisponendoci a continuare un cammino semplice che ci faccia contattare con consapevolezza chi siamo e come fare anche per vivere in armonia più possibile con noi stessi e con il tutto che ci circonda e io che cosa vi posso dire non dovrei dirvi neanche nulla ma per trovare una modalità che possa avere significato posso darvi solo la mia quella che per me soggettivamente in tutta la mia umanità e imperfezione ha comunque rivestito un'importanza un significato molto profondi io sono molto legata a questo cammino spero che in qualche modo qualcosa vi arrivi e che poi voi sappiate calarlo nella vostra di vita con le vostre di esigenze un aspetto di vita molto importante che riveste importanza non solo per quanto riguarda la spiritualità o la moralità ma nel nostro essere uomo uomini nella nostra umanità è la voglia di essere in comunione con gli altri di aiutare gli altri di porsi a servizio degli altri essere servitori e un po' in tante religioni è presente questo aspetto questo aspetto di donarsi questo aspetto di amore che poi a macchia d'olio parte con l'amore verso se stessi verso quelli più vicini per poi allargarsi si spera ci si prova a macchia d'olio toccando anche coloro che magari ci hanno fatto del male o non si sono comportati bene nei nostri confronti cercando di mandare comunque sempre un pensiero positivo anche a loro e perché no il modo più semplice più immediato quello che riconoscono anche i neonati il modo più semplice per fare del bene per far circolare energie positive è il sorriso è il modo più semplice più immediato da 101 storie zen la 34esima storia ci parla di un solo sorriso in tutta la vita sino all'ultimo giorno che moku gen passò su questa terra nessuno aveva mai saputo che sapesse sorridere quando sono la sua ora egli disse ai suoi discepoli tutti voi studiate con me da più di dieci anni mostratemi la vera interpretazione dello zen chi riuscirà ad esprimersi più chiaramente sarà il mio successore e riceverà la mia veste e la mia ciotola tutti fissarono la faccia severa di moku gen ma nessuno rispose enko un discepolo che stava da molto tempo col suo maestro si avvicinò a letto spinse avanti di qualche centimetro la tazza della medicina questa fu la sua risposta al comando la faccia del maestro si fece ancora più severa è questo tutto ciò che hai capito domandò moku gen enko allungò la mano e rimise la tazza al posto di prima un bel sorriso schiarì il volto di moku gen che briccone disse a enko hai lavorato con me per dieci anni e non hai ancora visto tutto il mio corpo prenditi la veste e la ciotola ti appartengono il sorriso il servizio è sorriso almeno per me il sorriso che a volte non è che sia meno vero se cela il pianto se cela l'altra faccia quella del dolore quello della sofferenza anzi azzardo il sorriso è più vero più autentico se mentre lo si fa si contatta anche quell'altra parte quella del pianto e allora il sutra de amante che già la parola in sé rende la durezza l'aspra verità di chi vuole desidera capire in modo tagliente accostarsi alla verità in modo tagliente e allora il bottisatua chi è? su buti è vicino la buddità è un bottisatua bottisatua significa uno che è pronto a diventare un buddha che vi è vicinissimo ancora un passo e diventerà un buddha bottisatua significa essenza di bodhi essere bodhi essere pronti a 99 gradi a 100 gradi evaporerà ma un bottisatua è uno che tenta di rimanere un po' di più un po' più a lungo rimane un po' più a lungo a 99 gradi in modo da poter aiutare la gente spinto dalla compassione vediamo cos'è questa compassione non è abnegazione non è sacrificio di se stessi no quello è un'altra forma di egoismo in qualche modo mascherato ma è una forma di egoismo perché una volta varcati a 100 gradi sarà andato oltre e qui accanto al sutra diamante abbiamo sospiro perché è molto molto importante abbiamo il sutra del cuore allora sarà andato e andato e andato oltre e oltre allora sarà molto difficile prendere contatto con la gente che vive su questa sponda l'aiuto più grande può venire da coloro che sono al novantanovesimo grado perché? poiché non sono ancora illuminati e conoscono i percorsi di coloro che non sono illuminati conoscono il linguaggio di chi non è illuminato stanno ancora in mezzo a loro però da un altro punto di vista al 99% sono andati oltre quell'1% li tiene legati collegati agli altri perciò un bottisattua è un essere vicino alla buddhita ma che tenta di rimanere su questa sponda un po' più a lungo per poter aiutare la gente e allora perciò devi ricordare due cose devi rimanere su questa sponda con grande determinazione altrimenti saresti attratto dall'altra e tuttavia non devi far crescere di nuovo delle radici altrimenti non saresti di nessun aiuto distruggeresti te stesso ricadresti ancora nel sogno il sogno è l'illusione il sogno è samsara il sogno è il velo di maya per servire occorre non avere attaccamenti non avere radici significa avere presente che si è su questa sponda che non si va nell'altra ma si accompagna e poi si lascia e perché? se in un bottisattua trovasse posto il concetto di un essere egli non potrebbe essere definito un bottisattua e perché? non deve essere definito essere di body colui nel quale trovi posto il concetto di un sé o di un essere o il concetto di un'anima vivente o di una persona pertanto devi ricordare due cose la prima che devi condurre tutti gli esseri sull'altra sponda tutti anche quelli antipatici anche quelli che ci stanno sul anche quelli che ci hanno fatto del male anche quelli che ci riempono di rabbia accogliamola la rabbia accogliamola fa parte di noi siamo umani ma poi proviamo proviamo dopo che la rabbia è sfumata proviamo a condurre anche loro sull'altra sponda e tuttavia devi ricordare che nessuno ha un essere e questo è il punto nessuno ha un essere né tu né loro tutti gli ego sono falsi è frutto di illusione continua a ricordare tutto questo e procedi con grande determinazione aiuta le persone a raggiungere l'altra sponda in realtà in realtà e questo è il punto ci sono già per questo tante volte dico che tutto è già perfetto è un'illusione pensare che noi siamo ancora da un'altra parte noi ci siamo già noi siamo già perfetti a noi non manca nulla significa solo prenderne consapevolezza solo non è facile ma non perderti non diventare un salvatore queste queste sono le due cose e nel salutarvi dicendovi che in tendina troverete il richiamo ai alle 101 storie zen e al sutra del diamante vi saluto dicendovi che la terza cosa da non dimenticare mai che è forse quella che viene più spontanea o a chi non viene più spontanea ci si può provare abituare basta solo pulire lo specchio e sorridere è il sorriso solo quello quello e c'è già tutto tutto è già perfetto proviamoci proviamoci insieme tutti i giorni nel qui e ora alla prossima alla prossima